Gli interventi di ristrutturazione che non aggiungeranno valore alla tua casa, anzi. Attenzione ai lavori di ristrutturazione. Non tutti aumentano il valore della tua casa. Alcuni interventi, per quanto possano sembrare allettanti, potrebbero persino ridurlo. Cambiare la pavimentazione o rimodernare il bagno non è sempre una buona idea. Le tue scelte potrebbero non essere gradite a un futuro acquirente. Meglio concentrarsi semplicemente su efficienza e funzionalità. Evita arredi permanenti in giardino o spazi in casa dedicati ad attività troppo specifiche, come una cantina per i vini. Per chi compra, infatti, dover riadattare secondo i propri gusti può essere molto dispendioso. No ad ampliamenti interni che vi costringano a sacrificare camere. E un no inaspettato anche alle piscine. Non ci crederete, ma non tutti sognano una vita a bordo vasca. Grazie. 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 Grazie.